Credo che possa aiutare tanto perché a fine primo tempo una squadra poteva pensare e poteva farsi venire in mente il debito dell'anno scorso dove eravamo ancora una volta in vantaggio di due gol e poi sappiamo cosa è successo. Aver dimostrato nel secondo tempo invece di aver reagito diversamente, di aver tenuto bene il campo, di aver sofferto ma portato a casa una vittoria importante è sicuramente una crescita dal punto di vista mentale dei ragazzi che ci può far crescere ulteriormente. È un Milan che deve pensare alla prossima partita, molto soddisfatto chiaramente di aver cominciato così bene il campionato e i preliminari ma dopo quattro partite non si possono fare certi tipi di ragionamenti. Io credo che sia alzata il livello delle prime sette squadre le più forti del campionato e noi siamo tra le prime sette ma per la lotta per la Champions sarà una lotta molto dura, molto competitiva quindi dobbiamo continuare a lavorare con molta attenzione e con molta qualità. Io credo a giocare bene in tutte le partite, io credo che noi possiamo provare a vincere una partita alla volta e che non possiamo metterci nei limiti ma allo stesso tempo neanche obiettivi in questo momento pensare a lavorare, a crescere e pensare alle prossime partite. Abbiamo ancora, come l'inizio precedente, abbiamo ancora tre settimane molto difficili, faticose, dispendiosi. Siamo voluti con tutte le nostre forze tornare in Europa e adesso dobbiamo cercare di onorarla e di fare bene il giovedì prossimo. Ma che spiegazione. Penso che avessimo iniziato bene il derby. Nella giusta maniera attaccando, creando anche delle situazioni, potevamo fare gol noi. Invece poi su due ripartenze, su due contropiedi che abbiamo subito, ci siamo ritrovati dal passare in vantaggio ad essere sotto di due gol. A dispiace, perché il Milano è una squadra forte, è inevitabile che quando vai sotto di due gol contro una squadra forte poi diventa difficile. Ci abbiamo provato, secondo me anche nella giusta maniera, perché abbiamo creato tante situazioni. Potevamo, come minimo secondo me, arrivare anche al pareggio. Però complimenti al Milan, perché hanno tenuto botta, sono stati resilienti, hanno conservato fino alla fine il vantaggio di un gol. Guarda, questo è sempre come si vede il bicchiere, se lo si vede mezzo pieno o mezzo vuoto. Sicuramente questa sera siamo stati penalizzati più del dovuto, perché abbiamo concesso due gol, però al tempo stesso potevamo farne, secondo me, più di uno, qualcuno in più. È inevitabile che ci sia da lavorare, che ci sia da lavorare in alcune situazioni e cercare di migliorare. Però c'è sicuramente da lavorare e trovare sempre il giusto equilibrio. Però, come ho detto prima, a me sinceramente la squadra non mi è dispiaciuta, anzi, ha giocato un'ottima partita, nonostante la difficoltà iniziale. Abbiamo creato tanto, però stiamo a parlare oggi di una sconfitta. Dovremmo essere bravi a risettare adesso, a pensare alla partita di Champions, portandoci le cose positive, ci sono tante cose positive, però al tempo stesso guardando quello che c'è stato di negativo e cercando di lavorare per migliorare. Grazie.